Ok, la registrazione è partita del primo incontro per il Comune di Guardistallo e Casale Marittimo relativamente al cambio di sistema di raccolta differenziata, intanto ringraziamo i partecipanti, faccio un avviso rapido per chi ci vedrà dopo sui canali social, Facebook eccetera eccetera, se avete delle domande e quesiti e non avete visto il video in diretta, questo è solo il primo di vari incontri, fate le vostre domande nei commenti qua sotto in modo tale che nelle prossime dirette cercheremo di rispondere ai vostri quesiti. Allora io intanto mi presento rapidamente, mi chiamo Stefano Ambrosini, sono un progettista indipendente, seguo svariati progetti in Italia e poi dopo vi farò un po' una piccola presentazione e sto seguendo il Comune di Guardistallo e Casale nell'avvio del servizio. Mi mando domattina la comunicazione, Sandro, di pazienza ma l'ho visto... Aspetta perché Sandro ti ha tolto un attimo l'avvio. Allora, niente, quindi da adesso fino alla data di avvio del servizio che poi vi comunicheremo, vi spiegheremo bene nel dettaglio, ma che adesso è programmata al 14 di dicembre, poi dopo vi spiegheremo bene la scelta della data e tutto il resto, cercheremo di organizzare un minimo di un incontro settimanale di avvicinamento e guardando i DPCM e le normative relative all'assembramento si cercherà di fare una serie di incontri pubblici in presenza prima dell'avvio del servizio o avviato il servizio su tre o più giorni, io avevo programmato in linea di massima tre giorni prima della partenza del servizio con nove incontri pubblici. Io adesso lascerei la parola un attimo ai due sindaci, a Sandro e alla Claudia per fare una breve introduzione di tipo politico e poi dopo passo direttamente alla condivisione delle slide. Per qualsiasi domanda che avete sul sistema io vi consiglio di tenerle per la fine, anche perché poi dopo abiliterò, io cercherò di fare una presentazione la più breve possibile, al massimo 20-25 minuti e poi dopo vi do lo spazio per tutte le domande. Tutti gli incontri saranno più o meno simili, man mano che ci avviciniamo alla data di cambio del servizio si cercherà di andare più nel dettaglio, nel vedere anche la documentazione cartacea, il calendario e tutto il resto. Ok, niente, allora vi lascio la parola e dopo ora entriamo. Allora, grazie Stefano, mi sentite? Allora, buonasera a tutti, cercherò di essere molto sintetica però ci tengo a dire alcune cose. Innanzitutto che sono molto felice di trovarmi qui finalmente stasera perché si ufficializza l'avvio del servizio di raccolta porta a porta, cioè un percorso che diciamo è iniziato per noi qualche mese fa, per noi e per l'amministrazione del comune di Guardi Sallo che ringrazio, ringrazio il sindaco Sandro Ciccarelli che qui con noi parlerà dopo di me. Allora, sottolineo che questi due comuni diciamo così vicini e quindi con dei confini praticamente inesistenti, avessimo avuto una partenza disgiunta, cioè separata sicuramente abbiamo creato un danno l'un l'altro. Cioè io non mi soffermo su quelle che sono le ragioni concrete di questo, però dico che una partenza diciamo unita, congiunta sicuramente è la scelta vincente. Questo grazie alla longimiranza delle due amministrazioni che si sono unite in questa cosa. Quindi ancora grazie a voi per la collaborazione. Allora, niente, perché questa scelta? Diciamo che a prescindere dal rispetto per l'ambiente che troverei essere scontato, ovviamente c'è la ragione importante che noi dobbiamo raggiungere una percentuale di differenziata dalla quale in questo momento siamo davvero ben lontani e questo nuovo sistema di raccolta sicuramente ci consentirà di raggiungerla e addirittura superarla rendendo i nostri due comuni decisamente più virtuosi. Ma poi ovviamente anche per il decoro, perché ovviamente in questi anni, ora noi ci siamo insediati da un anno, però andare a togliere tutti quei cassonetti che fino ad oggi sono stati una vera attrattiva, una vera calamita per tutti questi abbandoni, poi attorniati da tutti questi ingombranti, diciamo quotidianamente noi abbiamo cercato sempre in questo anno di farli pulire, insomma, cassonetti trascimanti, immondizie eccetera, però con una difficile risoluzione. Quindi con tutto questo, cioè quindi andando in questo momento a cambiare il sistema di raccolta, quindi a togliere i cassonetti sicuramente vedremo più pulizia, più ordine sul nostro territorio, quello un po' che i cittadini ci stanno chiedendo da diverso tempo. Quindi differenziando si può, è ovvio che ci sarà del sacrificio, perché comunque andremo a stravolgere le nostre abitudini, quindi il nostro sistema che ormai abbiamo acquisito, quindi con un impegno maggiore, iniziale, poi tutto può diventare un'abitudine, sia per i cittadini residenti, sia per le attività commerciali, però poi tutti insieme raggiungeremo dei risultati che a mio avviso saranno straordinari. Allora abbiamo deciso, ora Stefano si è appena presentato, adesso lo farà ancora meglio, comunque abbiamo deciso di avvalerci del contributo di un tecnico, di un esperto, per questo tipo di raccolta che è Stefano Ambrosini. Diciamo che la sua assistenza ci ha consentito di partire subito al massimo livello qualitativo, perché con la sua esperienza abbiamo potuto far questo, quindi ora sarà lui più a raccontarvi un po' quello che andremo a fare, e con lui, cioè noi ci siamo coordinati, ma la parte importante sinceramente sono stati i mesi che hanno preceduto questo incontro, perché dico bene, finalmente ci siamo davvero al lancio, perché diciamo che il coordinamento fra noi due sindaci, fra le nostre amministrazioni, con Stefano Ambrosini, con il nostro prezioso segretario comunale, perché comunque è un segretario comunale condiviso, abbiamo fatto secondo noi un lavoro di squadra veramente potente e siamo riusciti ad ottenere la modifica di un piano industriale con un gestore unico e questo andrà a produrci dei notevoli vantaggi economici per la cittadinanza. Questa voglio sottolineare che non è la sede di parlare di numeri, poi in seguito succederà, però ecco giusto per dirvi che comunque anche dal punto di vista abbiamo ottenuto, da questo punto di vista abbiamo ottenuto veramente dei grandi risultati. Allora che dire, finisco con dire che secondo me questa è veramente un'ottima partnership, perché il momento così difficile che stiamo attraversando, perché sappiamo benissimo, non si sottolinea, ma siamo in piena pandemia, che quindi con tutti i disagi del caso vediamo che tipo di sistema stiamo utilizzando per poter comunicare, si spera, come appena detto Stefano Ambrosini, che poi prima ovviamente di PCM e vari provvedimenti e misure anti-Covid permettendo riusciremo a fare qualche incontro diciamo in presenza, perché questo sarebbe davvero importante per me. Allora a questo punto non mi soffermo più, sicuramente non mi soffermo sulla parte tecnica, lascio poi la parola a Stefano, però lascio in questo momento la parola invece a Sandro Cettarelli del Comune di Guardistano. Grazie, grazie Claudio. Sì, la battaglia sui rifiuti diciamo è da, ci abbiamo messo gli occhi da 2015, si è cercato di ribattare un po' una situazione, eravamo maglia nera dalla Toscana, quindi siamo andati a risalire la china, ma dovevamo fare di più, dovevamo fare di più e sinceramente nonostante abbiamo apportato delle migliorie, non avremmo mai raggiunto quelle percentuali qualitative che ci dice anche la legge, se non ci fossero messi insieme e grazie a Dio insomma l'amministrazione umanale di Casale ha capito che effettivamente ci sarebbe stato una situazione qualitativa migliore. Effettivamente la prima cosa, la vista, la vista dei nostri stupendi e volghi vanno via i bidoni, mamma mia che gioia, non avere più i bidoni con tutta quella roba appunto traboccante come diceva Claudia, con quei lasciti di immondizia che magari ci vengano anche da situazioni satellite a nostri paesi, parlo per esempio per Casin di Terra, sembra quasi una cosa strana, ma tre bidoni per ogni situazione di differenziazione di rifiuto per poco più di un'ottantina di persone e sono costantemente pieni, ora o sono particolarmente voraci nel produrre spazzatura o c'è qualcosa che non quadra. Questo ce l'ha fatto notare, lo vedrete un attimino poi dai dati e snocciolerà anche Ambrosini, ce l'ha fatto notare veramente con dati alla mano, verificando anche la nostra curva di andamento dei rifiuti. Una cosa che dobbiamo anche dire è che il servizio porta a porta è qualitativo soprattutto verso le persone, è vero c'è un minimo di sacrificio da parte delle persone che devono differenziare, ma sinceramente viene calato proprio sulle persone, perché andiamo a prenderle a casa, pensate alle persone anziane che neambulano anche male, non riescano ad andare magari a bidoni, non riescano ad avere un accesso costante per buttare via i propri rifiuti, ne fanno pochi, vero perché sono magari delle persone che sono abituate a ottimizzare tutto, ma questo non comporta che hanno delle limitazioni di diambulazione e quindi invece le andiamo a prendere proprio sull'uscio di casa. Quindi è una cosa che migliora tantissimo la qualità della vita, poi anche la qualità dell'ambiente, la qualità della raccolta, e poi ci sarà anche una situazione, un ritorno economico. È stato previsto addirittura un miglioramento fondamentale, un miglioramento di un'area di conferimento che in un primo momento servirà solo nei primi mesi per l'avvio del porta a porta e quindi per la gestione diciamo industriale, ma in un secondo tempo non troppo lontano potrà veramente diventare il centro di conferimento e quindi non ci sarà più da dover chiamare i numeri per far venire a prendere gli ingombranti oppure andare a vedere come vada a buttare via quella cosa o quell'altra. C'è il centro di raccolta vicino, vicino dietro praticamente casa, sia per guardistallo che per casale e verrà appunto attrezzato per facilitare la vita della gente, perché se faccio un piccolo lavoretto e c'ho una paiola di carcinacci o c'ho un barattolo vecchio di vernice, almeno saprò dove buttarlo e non lo butterò magari a giro in bidoni tali e quale o quant'altro. Quindi niente, la scelta di prendere un tecnico specializzato, anche se non è che ci viene a gratis per chi gli piace la Toscana, diciamocelo, ma sinceramente ha alzato, come diceva Claudia, subito l'asticella perché per non perdere più altro tempo, per macinare velocemente quelle che erano le procedure per realizzare il progetto, dove noi abbiamo detto dove volevamo andare, lui ci ha redarguito pesantemente in certi momenti, però abbiamo capito che effettivamente c'era bisogno di fare una sterzata totale per cercare di migliorarci. Quindi niente, questa è l'introduzione, ma andremo passo a passo, come ha detto anche Claudia, scopriremo piano piano questa nuova avventura che la possiamo fare tutti insieme per cercare di valorizzare i nostri due borghi. Ok, perfetto. Allora, intanto ringrazio Claudio e Claudio e Sandro. Allora, io adesso stavo anche mettendo la diretta live su Facebook che così è postata sui vari gruppi, dopo rimetteremo anche il video. Allora, sostanzialmente cerco di condividervi un attimino la situazione di partenza, che così ce l'avete, da dove partivamo e da dove, diciamo, qual era la situazione da cui abbiamo preso spunto per la gestione della raccolta e poi vediamo quali sono gli obiettivi. Allora, a linea di massima vi faccio vedere un attimo la gestione, la situazione dei due comuni. Ok, questi sono dei dati pubblici, quindi li potete vedere. Attualmente voi siete in una zona che è la bassa pisana, che è un po' particolare a livello geografico. Se noi andiamo qua, possiamo vedere cosa. Casale, guardiamo i dati di raccolta differenziata che sono molto bassi, ma conforme alla raccolta stradale. Dovete sapere, dopo vi farò vedere anche per sfatare i fassi miti sulle raccolte cassonettizzate, che in realtà i sistemi a cassonetti, chiamiamoli anche intelligenti, che ci sono in zone vicine a voi, come ad esempio Follonica o all'area di Sia Toscana, hanno delle problematiche, che dopo vedremo, e non sono la panaccia di tutti i mali. Premesso, fare il porta a porta fatto male vuol dire aumentare i costi, fare un sistema che ci dia come finalità quello di riduzione del piano finanziario e quindi della riduzione dell'Atari è l'unico obiettivo che dopo vediamo interessa veramente la gente. Qua abbiamo una situazione di raccolta differenziata sotto il 30%, per guardistallo vediamo che è più o meno identico, il dato che è importante, qua abbiamo un aumento che è relativo all'inserimento del compostaggio domestico, ma anche questo dato è un dato farlocco, un dato chiamiamolo così di tipo aritmetico, perché per ogni compostiera in essere su guardistallo c'è un bonus, chiamiamolo, di circa 200-250 kg di frazione organica, che in realtà è potenzialmente inesistente, cosa vuol dire? Che se io ho una compostiera in essere e è vuota, mi viene assegnato nel calcolo della raccolta differenziata una produzione di 250 kg di organico. Il dato che interessa è vedere cosa, quant'è la produzione pro capita di secco? Ve la faccio vedere al volo, così capite. Prima di tutto, guardiamo il dato dal 2018, ve lo ingrandisco un po', abbiamo circa 680 kg pro capita di rifiuto, un comune altamente industrializzato a circa 400-450 kg. Cosa vuol dire? Che abbiamo una produzione abnorme di rifiuti pro capita, questo caratterizzato dal fatto che nel vostro sistema cassonetti ci entra un sacco di materiale anche magari da altri comuni, oppure di rifiuti di tipo speciale che vengono conferiti all'interno della raccolta degli urbani. L'altro, se guardiamo sostanzialmente Casale, è molto simile perché è una produzione di 557 kg. Il dato che vi interessa è di vedere quant'è la produzione di secco, Casale 557-160, che è la differenziata, siamo a circa 400 kg abitante, e guardistallo andiamo a 680-250, siamo a 430 kg abitante. Quindi ognuno dei cittadini di guardistallo e Casale produce circa 400 kg all'anno di rifiuti indifferenziati. Per darvi un'idea, il rifiuto indifferenziato reale per abitante nei vostri comuni è tra i 40 e i 50 kg, vuol dire che attualmente la differenziata non esiste, che è tutto buttato in media, tutto insieme. Poi lo vedrete quando si partirà. Lo vedremo con un esempio di un comune limitrofo che è Riparbella, che è partito un po' prima di voi. Allora, vi faccio vedere i sistemi alternativi prima, ad esempio i sistemi calottizzati, per farvi capire quali sono i pro e i contro e perché non sono stati scelti. Allora, il sistema calottizzato è un sistema che ha un vantaggio dal punto di vista tecnico che non cambia le abitudini dei cittadini, ma poi lo vedrete che in realtà se non cambia le abitudini il sistema non può funzionare. Quindi mantengo il sistema stradale, do una tessera, una chiavetta per l'apertura delle calotte, il problema qual è? Circa il 20% del rifiuto è fuori cassonetto. Quindi la gente fa un affiancamento lato cassonetto. L'altro problema è la bassa qualità della raccolta. A sinistra vedete un organico da cassonetto, a destra lo vedete da porta a porta. Dopo lo vedremo nel dettaglio. Questo è uno scarto di frazione umida da cassonetto. Quindi la problematica è che io ho un sacco di materiale di scarto. Qua lo faccio vedere in una tabellina dove non dovete guardare i numeri, però sostanzialmente la parte bassa è il porta a porta, ho uno scarto medio dell'1,34%, la parte alta che è il sistema calottizzato è del 13%, vuol dire dieci volte lo scarto del sistema porta a porta. Più c'è scarto e più io ho dei costi perché devo mandare questo materiale a selezione e a smaltimento. vi faccio vedere solo una cosa molto rapida per farvi capire. Questa è un'area che molti prendono ad esempio c'è la comunità della giudicaria dove c'è Madonna di Campiglio. Qua viene dichiarato un 81% di differenziata. In realtà mi interessa non la differenziata ma l'ho avviato recupero. Poi lo vedremo nel dettaglio. Qua su 100 kg di raccolta differenziata io ho circa 40 kg di indifferenziata. Quindi cosa vuol dire? Che in realtà questo materiale è invendibile. La raccolta differenziata in questo caso deve essere rimandata a selezione quindi devo pagare invece che farmi pagare per vendere il materiale. Questo è il sistema calottizzato. Poi l'altro problema è legato al fatto del fuoricassonetto che deve essere ripulito. Ci sono vari esempi. Questo è un esempio dell'affiancamento con sistemi calottizzati vuol dire che in tutti questi sistemi per farli funzionare e rendere il comune decoroso devo pagare un extra servizio di pulizia fuoricassonetto. Quindi alla fine il gioco non vale la candela il piano economico finanziario è sempre 10-15 punti percentuali più alto rispetto al previsto. Andiamo sui dati che interessano a noi. Allora quello che ci interessa raggiungere è Sandro vi ha detto che io non vengo gratis. Sostanzialmente io come tutti lavoro con una progettazione il mio lavoro però è particolare perché lavoro nel delta del risparmio dei budget dei comuni. Quindi cosa vuol dire? Che il mio lavoro è ridurre il piano finanziario del comune e il mio incarico è inserirlo all'interno del vostro risparmio. Vuol dire che il comune nell'arco dei primi due anni di avvio del servizio a lato pratico non mi paga perché mi autopago nella riduzione del piano finanziario. Quindi ipotizzate di avere la migliore progettazione, la migliore azienda di gestione dei rifiuti, il miglior sistema di raccolta, la migliore amministrazione comunale ma quindi in realtà queste sono le cose che potresti controllare dal punto dell'amministrazione ma senza la collaborazione attiva della cittadinanza il sistema non funziona. Quindi qual è l'unica cosa che interessa al cittadino? L'aspettativa personale di guadagno economico. C'è l'introduzione, qua c'è scritto tariffo puntuale, dopo in realtà a voi interessa poco qua aver applicato un tributo puntuale, la tariffa è dentro campo IVA, il tributo è fuori campo IVA, vuol dire che non c'è l'IVA esplicitata in uno e nell'altro sì, nel vostro caso sarà un tributo puntuale. Come funziona questo tributo? Poi lo vedremo meglio nel dettaglio, magari nei prossimi incontri, però la quota fissa verrà calcolata sempre sui metri quadri, la quota variabile verrà calcolata invece la produzione di indifferenziata. Dopo come verrà calcolata? Lo vedremo poi. Allora, il processo partecipativo è molto importante, anche la parte di educazione ambientale nelle scuole ovviamente quest'anno non hanno un po' sfortunato per la questione del Covid, se no normalmente io faccio anche la formazione dei bambini e questo è fondamentale perché oltre agli incontri pubblici la formazione dei bambini è fondamentale perché mi permette di creare una formazione inversa tramite i bambini sulle famiglie. Quindi questo è un esempio. Questo era un esempio di una formazione fatta su Marciana, che è il primo comune toscano che ha fatto partire nel 2015. L'altra attività è il supporto degli operatori della raccolta e nella prima fase serve per controllare il piano strada e adesso sarà sul vostro territorio la settimana prossima per fare le verifiche con il capo area di Rea e per verificare eventuali problematiche sulla raccolta. Questo è un esempio di come funziona il piano strada, cioè si fa sui mezzi, si fa la verifica, queste sono le cinque terre e si correggono i sistemi di raccolta. Come funzionerà la raccolta da voi? Allora adesso vi spiego in maniera molto rapida, poi dopo per qualsiasi domanda alla fine sono disponibili. Il sistema di raccolta sarà articolato sostanzialmente in cinque parti. Carta e cartone. La carta e cartone verrà raccolta con un sacco di carta, come viene fatto già a Riporbella, un sacco di carta da 35 litri di tipo idrorepellente. Per carta e cartone si intende carta e cartone tipo pulita, per sporca si intende estremamente sporca o unta. L'esempio è il cartone della pizza, se il cartone della pizza è estremamente unto va nell'organico, se invece ci sono tre macchietti di sugo questo materiale va comunque nella carta. Il vetro, voi avrete una raccolta degli imballaggi in vetro con un contenitore verde. Il vetro è molto semplice da raccogliere, bisogna bersi solo la bottiglia di vino, di acqua, di birra, quello che è, senza levare l'etichetta dal contenitore, questo materiale viene buttato in questo bidone. La raccolta della carta del vetro sarà settimanale. Poi l'imballaggio in plastica e metallo, questa è la raccolta più importante di tutti e che tutti sbagliano, perché nella plastica nel 99% dei casi e dei comuni dove vado, gli utenti buttano la plastica, invece non va la raccolta, la raccolta della plastica in Italia non esiste, esiste la raccolta degli imballaggi o dei contenitori. Cos'è un imballaggio e cos'è un contenitore? Nella raccolta differenziata della plastica sono conferibili solo gli imballaggi, ossia i contenitori e non gli oggetti. Gli oggetti in plastica hanno un imballaggio che può essere ad esempio un vassoio di plastica, un set di bicchieri di plastica dura dell'IKEA, un giocattolo, una lametta eccetera eccetera, questi sono materiali che vanno invece nell'indifferenziato. Per la raccolta della plastica e degli imballaggi in plastica e metallo avrete in dotazione dei sacchi gialli semitrosparenti. La raccolta organica, la raccolta dell'organica è una raccolta particolare, come vi ho detto prima, noi tenderemo a aumentare la qualità della raccolta dell'umido. La raccolta dell'umido verrà effettuata attraverso un sottolavello areato che è come questo, adesso vi faccio vedere il mio di casa e all'interno di questo verrà posizionato un sacchetto che è di carta fatto apposta. Questo sacchetto di carta mi serve per far sì che non abbia la problematica relativa alla bioplastica, cioè il contenimento dell'acqua nel fondo del sacchetto. Io adesso stoppo un attimo la condivisione così vi faccio vedere. Questo qua è il mio di casa, quindi così potete vederlo. Nel frattempo se comunque vi vengono delle idee, prima di darvi lo spazio per le domande e volete scrivere qualcosa c'è la chat attiva, potete scrivere qualsiasi cosa. Allora, quindi, in questo caso ho un sottolavello areato, il vostro non sarà rosa così bellino, ma sarà marrone, all'interno del quale io ho un sacchetto dove ad esempio ho l'organico. Questo sacchetto qua è un sacchetto che originariamente è così e all'interno c'è il trucco che è il fondello di cartoncino. Questo fondello di cartoncino serve per fare un fondo piatto in modo tale che entri esattamente, qua ve lo faccio vedere, io levo questo qua che è bagnato, dopo lo vedrete, deve bagnarsi, ma non si sfonda, e inserisco all'interno questo che entra perfettamente nel mastellino. Il fondo, come vedete, è piatto. Il materiale organico, rilevo quello nuovo e rimetto quello usato. Questo materiale organico non riesce a fare il fondo d'acqua come succederebbe ad esempio nel sacchettino dell'ipercop o della spesa e il materiale, quindi non devo buttarci la minestra, però sostanzialmente la parte acquosa della frazione organica viene assorbita dal cartoncino o dal sacchetto e questo perde fra il 10 e il per cento di peso. Il vantaggio per voi è che questo, diciamo, tende a non puzzare, io all'organico lo svuoto uno barra due volte a settimana, non di più, con un sistema con il sacco in bioplastica la problematica è legata al fatto che c'è un'accelerazione della puzza perché fa una concentrazione dell'acqua nel fondo e quindi si tende a svuotarlo di più, quindi più consumo di sacchetti e in più l'acqua rimane nel sacchetto e quindi io devo spendere di più perché pago di più al gestore la frazione organica. Allora vado avanti un attimo con la condivisione, quindi la frazione organica abbiamo capito che avrete due mastelli, uno sostanzialmente da 10 litri e l'altro da 25 litri che è quello da esterni, quindi questo starà solo sotto il lavello, il sacchetto viene poi preso e messo in un mastello più grosso da 25 litri, anche questo con un maniglione anti-randalgismo. L'ultima frazione che è il secco residuo avrà invece un temporaneamente, partirete con un sacchetto in dotazione, cosa ci va nell'indifferenziata? Adesso voi nell'indifferenziata ci state buttando quasi tutto dai dati della raccolta, io l'indifferenziata l'ho svuota in media ogni 2-3 settimane, adesso le utenze la stanno buttando lì ogni 1-2 giorni, ogni 2-3 settimane. Cosa ci va all'interno dell'indifferenziata? Solo oggetti in plastica non nel imballaggio, quelle che abbiamo detto prima, la paperella, il mozzi con il sigaretta, la cicca da masticare, la lametta da barba, lo spazzolino, oppure il secchetto dell'aspirapolvere, del fulletto, del Dyson e così via, oggetti in plastica non nel imballaggio che abbiamo detto prima, come potrebbe essere la custodia del CD oppure i materiali misti, come la carta plastificata. Allora, vi salto un po' di materiale, così avete un'idea, e andiamo su un comune lì di zona, dopo se avete altri dubbi lo vediamo. Allora, come verrà calcolata la tariffa, questo vi parlo in anticipo da 2021-2022, verrà introdotto un meccanismo tributario di tipo puntuale, ossia la parte variabile della tariffa verrà commisurata non in più in base al nucleo familiare, ma in base alla produzione di secco. Questa produzione di secco verrà calcolata in base ai sacchetti utilizzati. In altri ambiti, ad esempio io faccio, ho seguito il comune di Cascina in provincia di Pisa, sempre da voi, abbiamo utilizzato un trasponder sul mastello, che è la seconda fase, per misurare tutti gli svuotamenti. In questo caso invece verranno misurati i sacchetti che utilizzate per il secco. Sarà una quota fissa, ipotizziamo sui metri quadri, una quota variabile che sarà calcolata minima, ossia 1000 litri all'anno, vuol dire che se avrete dei sacchetti da 30 litri, si parla di circa 35-40 sacchetti di quota minima all'anno. Se non mi bastano questi sacchetti, che sono circa uno ogni settimana, settimana e mezza, ogni settimana e mezza o due, dovrò andare a ritirare degli altri sacchetti e questi andranno a conguaglio sull'anno successivo. Quindi la quota variabile verrà, diciamo così, commisurata agli svuotamenti. Cosa è successo in un comune vostro limitrofo? Il comune di Riparbella partiva da una quota di raccolta differenziata del 27%, circa, nel 2018 al 2023, adesso siamo oltre l'80% in maniera stabile. Questa era la produzione di indifferenziata, circa 750 tonnellate all'anno, adesso siamo un trend da 70, prima facevano circa 460 kg abitante, quindi come voi, voi siete a 400-430, adesso sono circa 40-50 kg. Quindi hanno fatto un meno 90% di produzione. Questo materiale non è sparito perché ha aumentato invece la raccolta differenziata. Oltre a quello è calato il rifiuto di importazione, specialmente nelle zone di confine. In questo caso le zone erano ad esempio vicino a Fagiolaio o la zona di confine con Montescudaio. Allora, vi salto quest'altro comune, vi faccio vedere Cascino e poi andiamo direttamente sulle domande risposte e poi se avete dubbi vi do spazio. Ricordo che questa è solo un'introduzione molto rapida, poi andremo nel dettaglio delle cose più avanti. Allora, Cascino è un comune ovviamente che non ha niente a che vedere con i vostri perché ha circa 40-50 volte voi, però per dare un'idea era un comune abbastanza complesso e qua vi faccio vedere come cambia il sistema tariffario. Allora, voi adesso state pagando una tariffa, un tributo, che è di tipo normalizzato presuntivo, quindi viene presunta la produzione in base al nucleo familiare. Adesso avete quindi un coefficiente che si chiama KB, su cui viene calcolata la quota variabile, che è proporzionale, che vedete sono quelle tre linee, arancio, grigio e giallo, che aumentano man mano fa il nucleo familiare. Ipotizziamo di avere un nucleo in questo caso single, uno da 4, uno da 6, il single paga 117, il nucleo da 4, 306 e il nucleo da 6, 400. Dovete guardare la seconda riga TV17 che è ancora normalizzata. E voi mi potreste dire, vabbè è giusto perché quello con più nucleo fa più sudicio, ma a me non interessa quanto rifiuto totale fai, ma mi interessa solo l'indifferenziata. Quindi vi assicuro che è molto più probabile che un single faccia più indifferenziata di un nucleo numeroso. Quindi cosa si fa in questo caso? Si elimina il criterio del nucleo familiare e viene inserito solo il calcolo degli svuotamenti del secco. Se vedete nella prima riga TV 2018, la quota variabile rimane sostanzialmente uguale per tutti i nuclei, tranne il single che è un po' più bassa. Quindi vi faccio una domanda, ipotizziamo di essere un nucleo da 4 e vi dico che l'anno precedente pagavate 395 euro e l'anno dopo se rimanete nella quota di secco che vi do pagate 297, secondo voi questo nucleo la fa la differenziata o no, la fa. E cosa è successo su Cascina? È crollato il secco, ecco la riga gialla che vedete a settembre, quindi è dove vedete 9, è crollato da circa 120 kg pro capita, ricordatevi che voi siete a 400 e 430, quindi avete un margine di riduzione incredibile. Da 400 kg pro capita siamo arrivati a circa 70-75 kg e da un 72 per cento siamo all'ottantadue per cento di raccolta differenziata. Su un comune da 50.000 abitanti che è complesso, non è come Casale Guardi Stallo che è molto semplice. Domande e risposte molto rapide. Allora, ok, dove si buttano le siringhe e gli aghi per l'insulina? Allora, questi materiali vengono tra virgolette raccolti nel secco residuo. Mi raccomando, chi dovesse avere questi tipi di rifiuti deve sempre nel caso delle siringhe e metterci il cappuccio. Questo perché è molto importante che questo materiale venga raccolto in maniera corretta perché gli operatori raccolgono con un sacco, non con un mastello, quindi se viene fuori sostanzialmente il lago dal sacchetto non è una cosa simpatica. Poi, andiamo avanti. Nella raccolta della plastica va buttato tutto il materiale sostanzialmente plastico? No, abbiamo detto solo gli imballaggi in plastica metallo. Dove si conferisce la lettiera per gli animali domestici? Solo nell'indifferenziata la sintetica, nell'organico il quale è compostabile e questa, come questo esempio, si può buttare direttamente nel water. Sono fatto apposta, c'è scritto sopra. Mi raccomando, le deiezioni animali sempre o nel water o nell'indifferenziata. Dove si conferisce il tubetto al dentifricio? Questo è un esempio che farò in tutti gli incontri e per far capire che il tubetto è un contenitore, mi interessa il dentifricio e non il tubetto, quindi essendo un imballaggio, quando è terminato, come può essere il tubetto di una crema e così via, che in questo caso va nell'imballaggio in plastica metallo. Posso buttare la carta per alimenti nei contenitori della carta cartone? No, questo materiale va nell'indifferenziata. Molte grandi distribuzioni lo stanno sostituendo con carte di tipo riciclabili. Dove posso raccogliere gli imballaggi in carta cartone bevanda? Da voi viene raccolto nel multimateriale leggero, da altre parti viene raccolto nella carta, quindi il tetrapack è una delle poche cose che cambia all'interno della gestione della raccolta da voi e viene raccolto nel multimateriale, quindi imballaggio in plastica metallo. Comunque i dettagli di questi materiali verranno messi in maniera particolareggiata nella documentazione cartacea che sta preparando Rea. Dove si gettano le stoviglie plastiche usoggette? Vanno nell'imballaggio in plastica metalli, anche se non sono degli imballaggi, però dal 1 gennaio 2021 non saranno più in vendita in monouso tutti i materiali nuovi che verranno venduti a partire dal 1 gennaio in tutta l'Unione Europea saranno di tipo compostabili, quindi ci sarà scritto sopra compostabile e questo materiale potrà essere buttato nell'organico. Posso buttare contenitore in vetro anche cocce, bicchiere e caraffie in vetro? Sì, solo se è materiale di piccola dimensione, se io invece ho un vetro come una finestra, in questo caso il materiale va conferito al centro di raccolta. Quale tipo di sacchetto può essere messo all'organico sia di tipo compostabile sia in carta, il comune vi darà in dotazione dei sacchetti in carta con fondello. Come si smaltiscono rifiuti pericolosi? Questi sono quelli come acido muriatico, varichina, prodotti chimici molto aggressivi per la pulizia, sono gli unici prodotti che vanno sciacquati prima di essere buttati nell'imballaggio in plastica metallo. Nel caso qualche utenza utilizzasse dei prodotti, dei fitofarmaci sopra il mezzo chilo di produzione, in questo caso devono essere smaltiti direttamente dal produttore. Dove si gettano le capsule macchinette del caffè e le cialde? Capsule cialde, tendenzialmente le cialde vanno nell'organico, le capsule possono essere di due tipologie, compostabili o no, le non compostabili vanno nell'indifferenziata, le compostabili possono essere buttate nell'organico. È necessario togliere l'etichetta in carta da bottiglia e altri contenitori? No. L'olio da frittura sostanzialmente quando sarà adeguato il centro di raccolta verrà posizionato all'interno anche la raccolta degli oli esausti. Cosa succede se gli operatori rilevano errori di conferimento? Sostanzialmente ci sarà, diciamo così, una segnalazione con dei bollini. Poi per la parte degli ingombranti non varierà il sistema di raccolta, quindi rimarrà il sistema chiamata, poi dopo quando sarà operativo il centro di raccolta si potranno portare anche là. Due cose molto rapidi e poi ho finito. Dal 2010 c'è una norma che pochi conoscono che è il ritiro uno contro uno, cioè in tutti i materiali elettrici e elettronici possono essere conferiti al produttore quando io compro il nuovo. L'altra cosa, la novità è che da diciamo 2016 tutti i grandi negozi, quello di prima è valido per tutti i negozi, questo solo per i grandi, solo per i 400 metri quadri di esposizione, devono avere un box come questo dove io posso buttare lampadina o piccoli rai sotto i 25 centimetri senza previ l'acquisto dei materiali. Le lampadine, sostanzialmente le lampadine possono andare solo al centro di raccolta o al rivenditore, perché tutte le lampadine nuove non sono, chiamiamole così anche in scienza ologena, ma sono tutte a risparmio energetico a neon, quindi non possono essere buttate nella raccolta differenziata solo in centro di raccolta o dal produttore. Come si smaltiscono i pannoloni per adulti? Nel caso di utenze che abbiano pannoloni attraverso, si farà richiesta attraverso un modulo in comune, c'è una doppia raccolta settimanale, quindi c'è una raccolta al giorno del secco e una raccolta per i pannoloni un altro giorno, dove si buttano i pannolini per bambini, anche in questo caso fino ai 30 mesi ci sarà la raccolta ad hoc fatta su richiesta sul modulo del comune e gli assorbenti femminili invece vanno nella frazione indifferenziata. Allora, intanto vi ringrazio dell'attenzione, l'ultima cosa dopo che vi dico sostanzialmente verrà introdotto anche una cosa abbastanza innovativa che in zona diciamo che altri comuni non ce l'hanno, che è un sistema che si chiama ID Box. Questo sistema, che poi vi faremo vedere più avanti, è un sistema sostanzialmente che è strutturato per poter far conferire le utenze non domestiche, scusate le utenze domestiche secondo casa e anche senza rispettare il calendario. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che specialmente per il comune guardistalle casale che hanno problematiche diciamo così di seconde casa, ci sarà la possibilità per utenze che verranno censite con problematiche che magari devono conferire, non ci sono lì durante il calendario, di poter conferire il secco residuo in alcune postazioni che verranno messe sul territorio. Per adesso dovrebbero essere due a casale e due a guardistallo. Tempistiche dell'avvio e distribuzione, adesso dovremmo, a causa del DPCM e del divieto di assemblamenti, la distribuzione verrà fatta domiciliare e quindi vi verranno conferiti i kit a casa probabilmente a partire dall'ultima settimana di novembre e l'avvio per ora è previsto il 14 di dicembre, poi dopo all'interno del kit ci sarà tutta la documentazione cartacea fatta insieme a REA nella quale ci sarà la spiegazione dettagliata di quello che vi ho detto anche col calendario e l'era di esposizione e le domande frequenti. Io ho terminato, se avete dubbi, domande o qualsiasi cosa io sono a vostra disposizione e quindi se volete sostanzialmente riattivare il vostro audio potete riattivarlo. Un attimo, prima di passare alle domande, quando partirà la distribuzione col porta a porta, specialmente pensando alle persone anziane, siccome si è sempre insistito nella protezione col progetto avvicinato e tutto, non aprite, a chi non conoscete vi dirà, sarà segnalato, non c'è da dare nessun tipo di soldi per il kit che viene consegnato a casa e le persone saranno di REA identificabili con il proprio pass di REA e sarà tutto ben visibile. Questo perché magari la persona anziana dice, no, no, non voglio niente, se no ci troviamo davanti a questo, dobbiamo specificarlo e sarà personale REA che sarà visibile, che è certificabile, a richiesta faranno vedere tutte le credenziali e comunque noi come comuni cercheremo appunto di far sapere anche strada, il calendario strada per strada dove viene eseguito la distribuzione del materiale e il materiale è gratuito, cioè non c'è da dare niente quando viene insegnato il materiale. Scusa, ma è perché ci sono anche tante persone anziane. Ok, allora, se avete domande di qualsiasi genere potete riattivarvi il microfono o scrivermelo, vediamo se riesco. Allora. Potete riattivarvelo come volete il microfono o metterle domande sulla chat. Ok. O se è stato troppo chiaro. No, ma più che altro, io ho paura che magari non riescano a riattivarsi il microfono. Riattiva di tutti, riattiva di tutti te un attimo. Eh, allora riattivo io. Entriamo in casa della gente, sembra. Beh, io intanto gli mando la richiesta di riattivare, poi chi vuole riattivarlo. Ah, sostanzialmente, per chi non... Allora, buonasera Stefano, avrei una domanda per i sindaci. La raccolta porta a porta è prevista anche per la campagna, quindi anche per le strade consortili? Ah, sì, Chiara. Allora, intanto ti rispondo io, poi dopo ti rispondono anche loro. La raccolta porta a porta è prevista dovunque, però nei casi particolari, ti faccio un esempio. Tu hai detto strada consortile, quindi io adesso, settimana prossima, martedì, mercoledì, sono lì sul territorio per fare il giro con Federico, che è il responsabile di area di Rea sui due comuni, dove verificheremo tutti questi casi particolari. La risposta sulla tua, non te lo so dire adesso, la tendenza è di raccogliere dovunque. Nei casi particolari, dove ci saranno delle strade private che entrano per, diciamo, svariate centinaia di metri, si troveranno delle soluzioni, oppure comunque dove c'è la possibilità di passare del mezzo, di passare con il mezzo, bisognerà fare la malleva per l'accesso, per evitare problemi assicurativi. Però la tendenza nella raccolta è di lasciare almeno possibili, diciamo, delle raccolte di tipo stradale o di prossimità. Se posso intervenire, ci sarà una differenza, sì, esattamente così, perché vorremmo proprio arrivare a tutte le abitazioni, poi nelle verifiche faranno se ci sarà qualcosa di particolarmente inaccessibile, insomma, è chiaro che lì dovranno essere trovate delle soluzioni. Una differenza sostanziale che dal centro urbano alla campagna è che le utenze della campagna verranno aiutate di una compostiera che consegneremo nello stesso modo, le stesse modalità che ha spiegato prima Stefano, e quindi il conferimento dell'organico avverrà soltanto per le abitazioni nel centro abitato. Gli altri dovranno utilizzare la compostiera. Chi ha dei giardinetti, se siamo nei punti limiti del paese, chi ha dei giardinetti chiaramente potrà anche chiedere la compostiera e utilizzarla, va bene? Ok, allora, intanto così la faccio vedere, così più o meno avete un'idea. Diciamo che la compostiera, diciamo per le utenze non del centro storico, è fatta così. Allora, è anche esteticamente abbastanza carina, è una 310 litri, quindi la raccolta è la stessa cosa che abbiamo fatto su Riparbella, cioè Riparbella abbiamo fatto il centro storico con la raccolta dell'organico, il resto abbiamo fatto tutto con la compostiera esterna. Quindi la compostiera verrà data come tutti i materiali in comodato d'uso, sono correlati all'utenza Tari, quindi non c'è niente da pagare, come ha detto prima Sandro, è ovvio che questo materiale è collegato all'utenza, quindi nel caso di chiusura dell'utenza, questo materiale deve essere poi restituito al comune. Chiara, spero di averti risposto, comunque se tu... Tanto puoi parlare perché c'è l'audio attivato, quindi se hai dubbi ci puoi chiedere. Nel nostro caso invece le compostiere sono un pochino più tonde, invece quadrate, tipo uovo. La consegna è uguale, ce ne abbiamo già un bel numero, sia in campagna ma anche all'interno del paese. Cambia logicamente, come diceva Stefano, la tariffazione, non è più un discorso di tariffa che chi ha la compostiera avrà dato lo sconto che per guardistarlo è il 30% sulla quota variabile, ma verrà dato lo sconto a chi prende la compostiera perché non conferisce l'umido. Quindi questo poi ci sarà un momento in cui potrete decidere eventualmente se restituire o no la compostiera e fare l'ammuniazione all'ufficio tributi perché magari vi tenete più comodo avere il ritiro domiciliare dell'umido. La cosa che è, è che comunque questo per quelle utenze che stanno all'interno dell'agglomerato urbano sia di guardistarlo che del casino di terra e per quelli appunto in campagna la scelta è fissa, cioè si fa la compostiera o la concimaia o la buca, cioè questi sono i sistemi comunque che vengono... Diciamo che come hai detto Tessa ando solo per fare una precisazione in modo tale che si capisca in modo chiaro. Allora adesso la riduzione che c'era su guardistarlo e casale era se uno aveva la compostiera, non se la usasse, diciamola così per essere chiari. Adesso la riduzione è se io rinuncio al conferimento dell'organico, cioè vuol dire che se io ho la compostiera non avrò il ritiro dell'umido. Quindi per, tra virgolette, ottenere quindi questo sistema e dopo un'utenza mi dirà eh ma io devo ammettere lo scarto del pesce e la carne. Allora, va tutto nella compostiera. Cioè se io dopo dico, eh no ma dopo mi arrivano i topi. Allora, queste sono tutte le bugie metropolitane sulla questione del compostaggio. Prima di tutto la compostiera, dopo faremo una sessione solo sul compostaggio. Quindi se avete delle domande specifiche facciamo una riunione esclusiva sul compostaggio. Allora, se io faccio il compostaggio in maniera corretta, il materiale non puzza perché non va in putrefazione, ma va in compostaggio. Se puzza e attira i topi vuol dire che sta andando in compressione e sta togliendo ossigeno dalla parte bassa della compostiera. E quindi in questo caso puzza perché il materiale va in putrefazione. Nel caso di materiale di bassa diperibilità e compostabilità, come potrebbe essere, mi sono mangiato, se ho mangiato la fiorentina e non so dove buttare l'osso. In quel caso lì questo materiale lo butta nell'indifferenziata. L'idea nella questione delle cozze o dei miti, se ho cozze e vongole, se ho la raccolta dell'umido, lo butto in questo qua, nel sottolovello areato e me lo butto nell'organico. Se ho la compostiera, queste cozze e vongole le butterò nell'indifferenziata. Perché se le butto nella compostiera, fra un anno sono ancora lì. Quindi è ovvio che il compostaggio deve essere fatto in maniera corretta, però adesso riparbella lo possiamo usare come cavia perché è partito già da un anno e mezzo e la cittadinanza ha reagito in maniera egregia. Cioè la raccolta funziona. Mi aspettavo, diciamo così, non una partenza così lanciata, ma dal primo mese siamo andati subito sopra l'80%. E quindi è stato preso un po' anche, ad esempio, per gli altri comuni. Questo ci prende un po' sull'orgoglio. Dice praticamente se ci sono riusciti riparbella, se non ci riuscite guardistalle e casale, siete delle capre. Ma no, più che altro perché Sandro e la Claudio lo sanno, riparbella a livello territoriale è estremamente più complicato di chi di voi. E devo fare tutto il giro insieme. Perché la zona esterna rispetto al centro è gigantesca, quindi per riuscire a raccogliere... Basta dire che riparbella tocca Terricciola, ecco. Basta dire che tocca Terricciola, quindi si apisce già dove cavolo arriva nel territorio. Credo che come estensione territoriale solo Montecatini possa essere in zona più estesa, perché a Sandro Ceridi diciamo sempre sempre il re di Roma con sette coldi, ma pochi soldi, perché sono 1600 persone per 182 km quadrati, un invisibilio. Ok, allora, se ci sono altre domande, più che altro per dare un po' di spazio, che così siamo dentro l'ora, se no dopo anche la registrazione diventa inguardabile. Quindi se c'è qualcuno dei presenti che ha delle domande, siamo a vostra disposizione. Altrimenti comunque per quelli che guarderanno il video, io adesso ho fatto comunque una diretta su Facebook, ma poi la registrazione in alta definizione la riposta in modo tale che sia disponibile per tutti. Quindi se c'è qualcun altro che vuole mandare un messaggio sulla chat o vocale, anche prendo il microfono, rimaniamo a vostra disposizione ancora. Nessuno? Chiaro per tutti, dai, bene. No, no, vabbè. Vabbè, ma tanto è la prima. È la prima. In realtà, se tu guardi, ma solo... Guarda, è la prima. E sono veramente, devo essere sincero, grazie a tutti perché si sono collegati. No, ma più che altro... Sono un orario pre-cena, quindi tante magari ci hanno dato a fare la cena. Sandro, la Claudia lo sa, quando abbiamo fatto le riunioni per la Val di Corne, c'era meno gente per comuni come Castagnia. Quindi, allora, Antonio, dove finisce l'erba del prato agli sfalci? Allora, questa è una tematica molto tecnica, molto particolare. Allora, Antonio, ti rispondo in maniera, diciamo così, sintetica, però dopo, magari nelle prossime, lo teniamo come argomento particolare. Allora, gli sfalci a potatura, adesso domanda, adesso dove li metti gli sfalci a potatura? Ora? Questa è una domanda provocatoria. Provocato, vicino al cassonetto. No, Antonio, dimmi, che cos'è? No, non lo so, puoi capire. Nella compostiera. Nella compostiera. Antonia, rispondici. No, dai. Allora, vabbè, comunque ti dico, adesso finisce nel cassonetto dal secco, te lo dico io. Quindi, sostanzialmente, la tematica è, gli sfalci a potatura, quando c'è il centro di raccolta avviato, finiranno in centro di raccolta, quindi la movimentazione sarà a carico dei cittadini al centro di raccolta, premettendo che lo sfalcio a potatura deve essere compatibile con la proprietà. Cosa vuol dire? Che non è che io ho due metri di orto e porto dieci camion di sfalcio a potatura, perché in quel caso lì vuol dire che io faccio un'altra professione, magari giardiniere in nero. La tematica legata alle sfalcio a potatura è anche molto particolare perché è legata al profilo tributario. Allora, adesso, dopo la parte di Arera, siccome siamo già fuori dai primi 50 minuti, la faremo la prossima volta, la settimana prossima. La sessione della settimana prossima vi farò meno su come si fa la raccolta e vi spiegherò la parte del piano finanziario, così capiremo più i numeri, con un'introduzione legata al piano di Arera, che è la cosa più complessa da spiegare. Nella tematica di Arera si indica che i servizi di richiesta individuale, come ad esempio i sfalcio a potatura di ingombranti, non possono essere inclusi nella tariffa collettiva. Cosa vuol dire? Che se io ho la casa in campagna casale, la Claudia sta in centro e lei ha 50 metri nell'area medievale, io ho 10.000 metri di parco, ma con 50 metri di appartamento, quindi abbiamo la stessa misura, adesso stiamo pagando la stessa tariffa. Quindi chi sta pagando il mio sfalcio lo sta pagando la Claudia, che non ce l'ha al giardino. Quindi vi sto dicendo che a livello tributario la tematica è un po' complicata su altri comuni, ad esempio come Cascina, però è un altro gestore, non è Rea, ma è Geofor, abbiamo introdotto il meccanismo di raccolta domiciliare degli sfalci e potatura a pagamento, quindi con una quota veramente irrisoria nell'ordine di 30 euro all'anno, cioè viene dato in dotazione un carrellato per 26 settimane, quindi il periodo di sfalci e potatura, marzo-ottobre viene fatta una raccolta tutte le settimane di questi materiali, queste sono opzioni che si possono inserire nel post, però vi anticipo che le due alternative saranno o una raccolta a pagamento di tipo domiciliare o il conferimento in centro di raccolta. O ti avvali del giardiniere e paghi il giardiniere e pensa a lui. Sì, quello è ovvio che faccio un esempio, se io devo smaltire, se io ho 200 ulivi e devo fare la potatura, cioè devo chiamare un'azienda che posso portare al centro di raccolta. anche perché il comune non può fare la cippatura, quindi la problematica sta nel fatto che avrebbe una vasca di un camion, per darvi un'idea, vuota ma piena, perché avrei tanto volume ma poco peso e quindi dovrei movimentare dei cassoni una cosa da dire è che il centro di raccolta stiamo spingendo forte, veramente forte, per cercare di fare il più velocemente possibile, sia perché serve proprio materialmente al disbrigo del porta a porta e la raccolta del porta a porta ma soprattutto per cercare di farlo diventare velocemente centro di raccolta perché proprio tante di queste cose sono molto più alleggerite queste situazioni perché avendoci un centro di raccolta ben gestito e aperto sempre questo sottolineo per noi sarà veramente un bel traguardo sarà veramente un bel traguardo perché fino ad oggi chiama 15 giorni attende adesso avremo la possibilità veramente di caricare qualcosa in macchina e andare a conferire al nostro centro di raccolta quindi sarà davvero un enorme vantaggio anche perché come comuni avevamo cercato di fare una una forzazione cercare di forzare il sistema di andare a conferire a Cecina ma non c'è mai stata data la possibilità quindi avere un nostro centro di raccolta gestito direttamente qua sui colli sinceramente è un grande passo avanti nella gestione del sistema Sandra c'era c'era una domanda che rispondo rapidamente che è di Alberto Lessi allora dato che nella raccolta differenziata si paga in più per ogni sacchetto utilizzato se il giorno di raccolta ho sacco mezzo vuoto mi conviene proprio non metterlo in strada sì il concetto il calcolo viene fatto pieno per pieno quindi se c'è un sacchetto a metà lo metterò pieno la settimana dopo questo adesso vedrete in realtà i sacchetti saranno piccoli non saranno grandi sono fatti apposta per evitare che ve lo teniate un mese in casa non pensate che sia così voi ce l'avrete sostanzialmente se la fate correttamente avrete un'esposizione ogni due settimane di secco eccetto i nuclei familiari con pannolini e pannoloni traverse che avranno due raccolte a settimana dei tessili sanitari però se la fate bene la raccolta del secco è una frazione di tipo inerte cioè non puzza altre domande? se non ce n'è altre poi potranno comunque facce tanto ne facciamo esatto adesso qua la faremo ancora ne facciamo una la settimana prossima e poi a rotazione adesso la settimana prossima sono lì martedì mercoledì quindi probabilmente la faccio anche in presenza e poi dopo vediamo di organizzarci in base di PCM e alle regole di assembramento per farvi le comunicazioni su quelli in presenza però tutte le settimane intanto che ci avviciniamo alla data di avvia faremo degli approfondimenti quindi potranno rivedere la registrazione ora che ci manderà il file verrà caricato del comune verrà caricato su facebook su tutti i social e quindi potrà essere rivisto e ci sarà anche magari la possibilità di ragionare con più calma e magari prepararsi anche qualche domanda per ogni incontro poi diciamo che quando anche sempre per chi ne avresse bisogno fatta la distribuzione del materiale ci sarà un numero di telefono dedicato dal REA proprio per dare sostegno e notizie utili per quanto riguarda ancora i conferimenti ci saranno gli uffici comunali che potranno rispondere anche alle domande per quanto riguarda gli aspetti gli aspetti tecnici economici e poi logicamente c'è anche l'app di REA che parla del porta a porta e che dà una mano in in velocemente per capire che cosa fare e comunque non ci spaventiamo nel senso questo è veramente il primo incontro ci saranno tanti prima o poi insomma entreremo nella entrerete nella in questa modalità quindi insomma poi alla fine appunto verrà abbastanza facile ecco questo vogliamo sperare perfetto allora intanto vi ringrazio grazie di di aver seguito l'incontro per quali che la vedono indifferita che adesso chiudiamo se avete dei commenti li mettete qua sotto nei gruppi così li raccogliamo ai prossimi incontri cerchiamo di darvi una risposta intanto vi auguro buona serata e alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao